Amici, vi ricordate il mio ultimo video di Higher Lower che vi è piaciuto tantissimo, per chi non l'avesse visto vi invito ad andarla a recuperare, nel quale vi ho chiesto di scrivermi delle challenge in caso sbagliassi risposta. Beh, me ne avete scritte molte, tipo questa, o tipo questa, e ogni volta che faccio così esce una scritta, mi piace molto, sarebbe un bel superpotere. Ma sto giro voglio fare una challenge da ciccioni, proprio voglio fare il ciccione, e quindi signori, con l'ausilio della nostra nutellozza, ogni volta che perderò il livello, tra virgolette, mangerò un bel cucchiaiozzo di nutella. Come dite? Perché è già quasi mezza consumata? Lasciate perdere, non fate troppe domande e iniziamo. Oh signori, devo ammettere che la voglia di mangiare la nutellozza c'è, però per come son fatto io, dopo 3 o 4 cucchiai mi viene da vomitare, cioè proprio non ho più voglia. E quindi, diciamo che potrebbe essere un problemino. Ora, Great Dane, non so cosa sia, A2020, lower, ok, e la prima è giusta. Il nostro record è sempre 14, nell'ultimo video non l'abbiamo battuto, la demenza 670.000, guardate che faccia triste questa donna, ok. Golden Retriever più... Uh, stiamo andando bene signori, stiamo andando bene. La pena di morte credo meno, tra l'altro in America c'è ancora in alcuni stati la pena di morte, e questo più... Ok, perfetto, quando è pari, come sapete già meglio di me, il livello lo dà superato in ogni caso. Serial, non so cosa sia, ma fatto sta che l'ho indovinato. Il diario di Anna Frank, qua è difficile, qua è difficile, facciamo higher? Lo sapevo! Cioè, guardate la faccia soddisfatta del tipo. Eh sì, signori, un bel cucchiaiozzo di Nutella, è un po' che non mangiavo la Nutella. Voilà! Sono un ciccione, non ho neanche pronunciato, tra l'altro. E quindi il primo è andato, su tutta la bocca impattata. Golf di più, credo, sì. 18 milioni, cioè 1.800.000 Vegetariani, meno! Yes! Anche se ultimamente ce ne sono tantissimi. Calvin Harris, non so... Nutella! E siamo a due! Dovrei farle più spesso queste challenge, non so perché è la prima volta che le faccio. Per adesso, bene. Però, diciamo che se dovessi sbagliare più di tanto, il mio pancino ne soffrirebbe. Genitali, femmini, vabbè, ok, schizofrenia di più, minchia, un milione la schizofrenia. Tanto, eh? Io, Reo, l'avevamo visto nell'ultimo episodio, meno, stranamente meno. Non so perché. Paul McCartney, boh, di più, ok. Sì, era un cantante famoso negli anni 80, adesso. Oddio il solitario! Cosa? 13 milioni... Cioè, quanta gente c'è che cerca il solitario, eh? Eh? Quanti? Voi l'avete messo a casa il solitario? Vabbè, perché non lo metto a casa il solitario. Praga, credo sia di più. 800 mila, perfetto. Le piramide egizie, di meno. Questa è una challenge da ciccione. Voglio vedere quando dovrò fare quelle veramente pesanti. Chris Evans, il nostro grande e amato Capitano America, contro Inglourious Bastards. Meno, ovviamente, meno. Grande, Chris Evans, bellissimo, tipo un sexy imbol totale. Bird. Oddio, ma non posso sempre sbagliare al terzo, che poi devo mangiare tutto il barattolo. Muoio, cioè, muoio in diretta. Farei tante views, ma muoio in diretta. Not stonks, assolutamente not stonks. Però, un altro non fa mai male. Guardate il cagnolino come sviene. Guardate l'ignoranza. Morto. Ok. Play again. Samsung contro Star Wars. Star Wars meno. Ok, questa è una bella sfida, eh. L'obesità, quella che sto per subire io dopo la fine di questa challenge, credo sia di meno. Cioè, guardate questo, ha le tettazze, che schifo. Beh, il pa... Il pa... No! No! Ma signor papa! Ma non può farmi questo! Ma dai, ma mi costringe a mangiare un altro cucchiaione? Che poi non è che li sono piccoli, li cargo, eh. Però è sempre buono. Alla salute del papa. Che so che guarda i miei video, forse. Le teenager incinta contro PopCoso. Credo sia di più le teenager incinta, ma neanche troppo. Twerking. Di più. Ok. Sorvoliamo. Michael Jackson almeno 500 mil... 4 milioni. Ok. Ah, e infatti perché, come dicevo l'altra volta, sto sito aggiornato al 2015-16. Però Michael Jackson, guarda che è morto. Boh, non mi ricordo. Vabbè, Michael Jackson, è sempre Michael Jackson. Yozmite National Park, meno. Uh! Ero tentatissimo di fare di più. Seinfeld, non so cosa sia. Ok. Totalmente a caso, ma non ho idea di cosa... Cioè, è una serie tv, eh. Però non ho idea di cosa sia. Ma là, là. L'abbiamo visto nell'ultimo episodio e me lo son dimenticato. Cioè, faccio tutto quello sicuro di me. E per... Eh, ma neanche troppo. Ma neanche troppo. Sì, questo è quello bello grosso. Play again. Il Corinthians contro Whitewater Raffing, credo sia di meno. Però è bello fare il rafting in italiano. Non l'ho mai fatto, però sembra interessante. Greenfield Tower, l'avevamo già visto in un altro episodio, ma non abbiamo idea di cosa sia. Bungie Jumping, meno. Molta e poca gente fa Bungie Jumping. Anche questo è interessante. Juventus, 7 milioni. Ok, 7 milioni e 500 mila. David Aiki, non so chi sia, sostanzialmente. Apocalypse Now! Che in America va molto forte. Ma a me sinceramente fa schifo. Vabbè, il football, milioni su milioni. 6 milioni. Mi è entrato un elefante nell'occhio e mi dà molto fastidio. Che schifo il Botox. Che schifo il Botox. Che schifo il Botox. E la chiudiamo qui. La Cina, 1 milione e 800 mila. Oh, stiamo viaggiando, eh. Siamo già a 9. Uh, molto poco meno. Beh, le diete diciamo che questo video è tipo qui e le diete sono tipo qui perché c'ho la Nutella in parte. Non credo proprio che sia la dieta adatta. 1 milione e 500 mila questo. Il breast di meno. Perfetto. 1 milione in meno. William Shakespeare. Eh, però... Ok, sì, che fortuna. Pari. Ghost in the Shell. Bellissima serie tv che avevo consigliato tra l'altro nell'altro episodio. Con coincidenza. Credo me. Perfetto. 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 Dai, ero anche arrivato a 13. Che pagno, eh. È sempre più buono. Più ne mangi è più buona. Però sta iniziando a darmi fastidio al pancino. La Torah contro la legge del divorzio. Chiaramente. Beh, oddio, neanche troppi. Come mai? Così pochi. Strano. Questo qui non ho idea di cosa sia. Credo sia un giocatore di baseball o di football. Questo, boh, higher, non lo so, per i cani. Janet Jackson. Di più. La famosissima Janet... Eh? Bupa. Meno non so cosa sia. Oh, oggi stiamo trovando robe strane. Cos'è la bupa? Coca-Cola. 20 milioni. Cosa appena? Vabbè, che sono le ricerche. Però strano appena. Eh, Coca-Cola. Male, male, Coca-Cola. Male, male, male. Yoko Ono... Lo sapevo. Vabbè, ormai la Nutella sarà la mia cena. Beh, che dobbiamo fare? Tempi difficili. Continuiamo. Io ve lo dico, continuiamo finché non supero il record. Royal Cancoso. Meno della signorina Angela Murrell. Angela Murrell. Questo non è un botto, tipo un botto di milioni. Esatto, me lo ricordo. Questo non so cosa sia, meno... Ah, sono le... Ok. L'ansia di meno, anche se è esatto un milione, tanto. Eh, c'è tanta gente che cerca robe particolari. Animali notturni. Ok, perché mi è uscita la tipa? Va bene. Totalmente a casa. C'ho la bocca impastata. Marocco di più. No! Perché Marocco? Marocco! Guarda l'aeroplanino. Prrrr, prrrr, prrrr. Mede, 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 mede. Buongiorno. Sarò tutto sporco come un cicciona. Che schifo. Allora. The Catcher in the Rye. Contra Mexico. Non so cosa sia The Catcher in the Rye. Beh, è un libro sostanzialmente. Bello sto gioco. No. Quanti di voi ci hanno giocato? A Serpenti e Scale. In italiano tradotto. Scale e Serpenti. Mi sa che l'hanno invertito. Stupendo, mi ricordo. Ci giocavo da piccolino. Quasi quasi ci rigiovo. Houston Rockets di meno un milione. Meno del Fitbit. Ah, il Fitbit a colonne. Interessante. Questo qua. Spero meno. Perfetto. Meglio. Skipiamo. Silver di più. Perfetto. Skipiamo. Badminton di meno. No. Cosa? 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 Un milione il badminton? Cioè, ma stiamo scherzando. Ma stiamo... Scherzando. Vabbè. Il badminton. Il badminton. Il badminton. Il badminton. Capito, no? Ultimo tentativo. Come va? Ah, io sto per vomitare. Mi sa che... Ecco, pizza. Infatti, mi sa che vado a vomitare dopo. Vabbè. Ora ultimo tentativo. Basta, non ce la faccio più. Vi giuro che... C'è un blocco. All'automaco. Ah, che male. European Union. Leone... Meno. Ciao. Person of interest. Di più. Bellissima serie tv. Ve la consiglio. Il test del marshmallow. Non so cosa sia. Infatti, 4.000 ricerche. Questo qui l'abbiamo già visto prima. Che schifo. Schipiamo. Fisi... Come si chiama? Fisioterapia. Beh, guarda. Gamma robotica. What? Fitbit. L'abbiamo visto letteralmente un minuto fa. Dai, dai. Questo ultimo tentativo me lo sento. Me lo fillo. Ce lo portiamo a casa. Riusciremo a fare 15? No. Non riusciremo a fare 15. Signori. Io direi proprio di concluderla qui, ovviamente, con la nostra nutellozza, perché l'ultimo era da mangiare buono. Quindi, io vi ringrazio per la visione, scrivetemi altre challenge, questa era cicciona, fidatevi che dopo aver mangiato 27 cucchiai, un po' di dolorini ce li ho, eppure la bocca è impastata. Io vi ringrazio per la visione, e vi do appuntamento domani, alla solita ora vero alle 2.45, con un nuovo video. Ciao! Siete ancora qui.